Le stelle di Azus Le stelle di Azus Cancro Ancora una giornata ottima in cui potete mettere in mostra le vostre innate capacità relazionali Siete molto attivi in ambito sociale Spesso vi mettete al centro dell'attenzione e quindi risulta impossibile non notarvi Frequentate i vostri amici, vecchi e nuovi Leone, questa venere vi fa battere forte il cuore Sarebbe un vero delitto se non vi lasciaste trascinare da questo turbine di emozioni Sul lavoro potete contare su Marte che vi permette di affrontare con decisione eventuali ostacoli Che vengono posti sul vostro cammino Vergine, dovete fare un passo alla volta se volete raggiungere un obiettivo Mercurio spesso vi fa peccare di superficialità E prendere troppi impegni contemporaneamente può indurvi a commettere degli errori grossolani Prendete coscienza della vostra situazione, bella o brutta che sia Bilancia Ancora attenzione fra uomini e donne, non c'è pace nella coppia A causa di questo Marte che vi rende battaglieri e pronti a rispondere colpo su colpo Qualcuno stenterà a riconoscervi a causa di questa grinta inusuale per il vostro carattere docile e accomodante Scorpione, Marte in gemelli e Venere in ariete Possono significare un amore platonico Fatto di sguardi, di pensieri, di parole più che di passione vera e propria Soprattutto i più giovani possono trovarsi di fronte ad un amore impossibile Cercate di essere concreti almeno sul lavoro Sagittario, le amicizie e le conoscenze importanti possono spianarvi la strada del successo Del resto avete lavorato tantissimo nell'ultimo periodo Siete stati abilissimi ad entrare nelle stanze dei bottoni E adesso non dovete far altro che consolidare certe vostre posizioni Capricorno, quando decidete di fare di testa vostra Non c'è consiglio che possa farvi tornare sui vostri passi E allora cercate solo di non commettere danni irreparabili La luna congiunta a Durano vi fa essere precipitosi nelle vostre decisioni Specialmente in amore e in famiglia Acquario, dopo essere stati a lungo al centro dell'attenzione Ora vi sentite minacciati ed attaccati da più fronti È il prezzo che si deve pagare alla popolarità o al successo È inevitabile che qualcuno sia invidioso dai risultati che avete ottenuto Cercate di non innervosirvi e godetevi l'amore Pesci, ancora un po' di pazienza Poi potrete archiviare questi giorni di tensione e anche di malessere fisico Lo scontro che avete dovuto sostenere con Marte vi ha messo un po' in difficoltà Sul lavoro siete stati anche sul punto di perdere una battaglia importante Ma potete rifarvi E con l'oroscopo di oggi è tutto Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna Le stelle di Azus Le stelle di Azus